Frodo, devo svelarti un piccolo segreto riguardo l'anello. Ehm, signor Gandalf, mi sa che si sta sbagliando. Frodo, ascoltami molto attentamente. Ehm, l'ho appena detto che non sono Frodo. Ehm, voglio dire, cioè... Frodo. Mi dà fastidio! Ma lo fa, lo fa, a posto lo fa! Non sono Frodo! Mio caro Frodo. Ma fa' un culo! L'anello del potere è un falso. Fu acquistato in cambio di poche monete a Mordor, presso il Monte Fato, da un viandante di passaggio di nome Aldous dei Bagli, direttamente da Sauron. Ma porca miseria, ma quella era di mia nonna allora! Mio, ma ecco perché l'altra settimana, quando gli ho portato quell'anello al banco dei pegni, mi volevano dare 10 euro. Ma perché? Sono disposto a darti 30 euro, se lo darai a me. Gandalf, ci ho scritto cretino in fronte per caso! Non credo! 35! A fanculo!